Cari amici del canale YouTube, dentro la notizia, quest'oggi cercheremo di capire se una delle possibili ragioni degli attacchi della Merkel agli Stati Uniti possa essere proprio la Deutsche Bank. Ricordo che la banca tedesca è sotto indagine da numerose autorità e per almeno due capi d'accusa. In caso di condanna e di sanzioni è probabile che l'istituto bancario non sia in grado di reggere il colpo e un suo default creerebbe un crack a catena verso il sistema finanziario tedesco e con danni incalcolabili alle imprese locali. Procediamo per gradi. Ricorderete, come già detto nel precedente TG Flash del 21 novembre, che 170 funzionali della Procura, l'Ufficio Federale di Polizia Criminale, il Dipartimento di Investigazione Fiscale e la Polizia Federale hanno perquisito il quartier generale della banca a Francoforte. Il motivo di questa indagine erano i Panama Papers, in sostanza il riciclaggio di denaro nei paradisi fiscali attraverso società offshore. In seguito, come riportato nel TG Flash del 24 novembre, un nuovo caso è venuto a galla, il caso Dansk Bank. Ora anche il Parlamento europeo desidera indagare e approfondire il ruolo di Deutsche Bank nel contesto dello scandalo del riciclaggio di denaro della Danske Bank. Il Comitato parlamentare per il crimine finanziario, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, secondo nostre fonti, il 4 febbraio a Bruxelles ha in programma l'audizione del funzionario responsabile del riciclaggio di denaro di Deutsche Bank, Stefan Wilken. In realtà i parlamentari europei volevano intervistare il CEO Christian Sewing, ma questo ha preferito rimandare l'incontro ad altra data più conveniente e invierà Wilken, che ha assunto la funzione di responsabile del riciclaggio di denaro fino a ottobre. Dovete sapere che il caso Danske Bank è il più grande caso di riciclaggio di denaro della storia. Dal 2007 al 2015 si dice che la banca danese abbia riciclato fino a 200 miliardi di euro, da dubbia fonte russa, e l'abbia trasferita negli Stati Uniti, la maggior parte con l'aiuto della sussidiaria statunitense di Deutsche Bank. L'istituto tedesco fungeva quindi da banca corrispondente. Cerco di spiegare meglio il concetto per i non addetti ai lavori. Le banche corrispondenti sono banche partner per gli affari esteri. In sostanza gli istituti bancari si servono delle banche corrispondenti per fare affari in paesi in cui non hanno una loro sede. Quindi ricapitoliamo. Su questo secondo capo d'accusa stanno indagando. Le procure tedesche, l'ufficio federale di polizia criminale BKA, il dipartimento di investigazione fiscale, la polizia federale e il comitato parlamentare europeo per i crimini finanziari. Ma non è finita qui. Ora arrivano i veri pericoli per Deutsche Bank. La Federal Reserva Americana sta verificando se la controllata statunitense di Deutsche Bank abbia adeguatamente verificato il denaro che ha inoltrato ai clienti statunitensi per conto di una filiale estone di Danske Bank. Inoltre il Dipartimento di Giustizia americano, DOJ, e l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca Bafin avevano già richiesto informazioni alla banca sul caso. Deutsche Bank sottolinea che il caso di Danske Bank non è l'obiettivo degli inquirenti. Un portavoce della società dice che non ci sono indagini ma diverse richieste di informazioni da parte delle autorità di regolamentazione e delle forze dell'ordine di tutto il mondo. A metà gennaio, a ricevimento di Capodanno della banca Berlino, il CEO di Deutsche Bank, Sewing, ha detto che finora non abbiamo prove di comportamenti scorretti da parte nostra, ovviamente. In conseguenza di ciò ha annunciato un'altra indagine interna, mossa più che altro per tentare di rassicurare gli azionisti, obbligazionisti e correntisti? Cosa ne pensate? Dobbiamo inoltre ricordare che due anni fa la banca ha dovuto pagare circa 600 milioni di euro alla sorveglianza statunitense per il possibile riciclaggio di denaro con azioni della loro filiale di Mosca. Non è ancora del tutto chiaro se Deutsche Bank dovrà anche questa volta aspettarsi una sanzione nel caso Danske. Gli azionisti della banca sono molto nervosi perché l'istituto finanziario è già in difficoltà e difficilmente può permettersi un'altra alta sanzione economica. Deutsche Bank è del parere che in quanto banca corrispondente non dovesse conoscere i clienti di Danske e non doveva controllarli. Ma questo potrebbe non significare che l'istituto sia fuori dai guai. Gli esperti di riciclaggio di denaro confidano che le banche corrispondenti dovrebbero conoscere almeno in una certa misura i clienti dei loro partner finanziari. Ad ogni modo Deutsche Bank avrebbe dovuto esaminare attentamente Danske Bank perché c'erano prove ben prima del 2015 che il denaro fosse stato riciclato attraverso la filiale Estone della banca danese per cui Deutsche Bank non ha scusanti. Facciamo ora un passo indietro ma solo per farne due avanti subito dopo. Dovete sapere che il caso Danske è stato scoperto l'anno scorso grazie all'informatore Howard Wilkinson. Il banchiere è stato responsabile della filiale Estone di Danske Bank dal 2007 al 2014 e ad un certo punto è finito per essere sospettato. Il britannico ha riferito quanto segue al Parlamento europeo in autunno. Il meccanismo funzionava così. I presunti riciclatori di denaro trasferirono inizialmente il denaro ad una banca russa che a sua volta lo trasferì a Danske Bank in Estonia che infine lo girò attraverso banche statunitensi a destinatari precedentemente sconosciuti. Una volta che il denaro superava le barriere delle banche degli Stati Uniti arrivava ben lavato e ripulito nel sistema finanziario dove appunto si è iniziato a seguire la pista. Danske sembra aver gestito la maggior parte dei trasferimenti proprio sulla filiale statunitense di Deutsche Bank. Quello che ci colpisce è che l'informatore ha anche mostrato ai parlamentari dell'Unione europea un grafico sul quale sono stati registrati i percorsi monetari. Vi è un collegamento diretto tra i clienti di banche in Russia e la controllata statunitense di Deutsche Bank. Da ciò possiamo dedurre che la Deutsche Bank non solo ha agito come banca corrispondente ma ha anche prenotato direttamente denaro da clienti dalla Russia. In merito a quanto detto Deutsche Bank ha preferito non commentare. La pressione politica su Deutsche Bank sta ora crescendo dopo che i pubblici ministeri e le autorità di vigilanza hanno già contestato negli ultimi mesi altre transazioni controverse del più grande istituto di credito tedesco. In conclusione ritenete probabile che le autorità di vigilanza statunitensi siano pronte anche questa volta ad emettere una mega multa a carico di Deutsche Bank, la più grande banca tedesca, e che questa possa quindi causare seri danni all'economia della Germania, non solo al suo sistema finanziario? Oppure ritenete che nonostante i gravi e circostanziati capi d'accusa e le indagini di innumerevoli autorità tedesche, europee, americane e mondiali, Deutsche Bank possa farla franca? Non dimentichiamo che gli americani in ambito di frodi finanziarie paiono essere molto più severi di altri, soprattutto con un avversario economico, militare e politico rappresentato dalla più grande banca dell'impero franco tedesco. Sanzionare Deutsche Bank potrebbe essere un duro colpo alla nascente superpotenza. Di conseguenza questa grave eventualità potrebbe spiegare almeno in parte gli attacchi di Merkel e Macron verso gli Stati Uniti. Staremo a vedere. Continueremo a mantenere il focus anche su questa grave situazione. Felici che anche questa volta i guai non appartengano a casa nostra. Iscrivetevi al canale, diffondete i video e aiutateci a mantenere il faro puntato sulle losche trame dell'elite e sosteneteci con una donazione affinché possiamo continuare a vigilare per il bene di tutti. Un abbraccio dal vostro Roby.